Riunione del direttivo della FEMCACISL di Messina a Mirto presso uno degli stabilimenti della Irritec. È stata l'occasione per il sindacato per confrontarsi con un'importante azienda specializzata a livello mondiale nella termoidraulica, irrigazione ed agricoltura con progettazione all'avanguardia e soluzioni innovative digitali nel rispetto dell'ambiente. Irritec è un grosso gruppo con grandi potenzialità e che dà lavoro a molte persone e noi ci auguriamo che possa crescere ancora per le attività che svolge. Questo incontro va sul solco del progetto che noi ci siamo sempre dati che è quello di stare dentro le aziende, monitorare le aziende più efficienti e più produttive e quindi dentro queste aziende aprire un confronto che non sia un confronto aspro ma un confronto di dialogo che consenta sia all'azienda ma soprattutto ai lavoratori di progredire in termini di tutele e anche produttività e capacità, insomma competenze ed efficienza. L'Irrritec è sicuramente un'azienda che è leader a livello mondiale, questo incontro è servito anche a raccontare questo? Sì, è servito a raccontare la storia di Irritec, l'impegno che noi abbiamo anche nel territorio, la nostra responsabilità sociale, quanto per noi è importante il territorio e la fatica, alla fine è un vero miracolo che è stato fatto perché essere in Sicilia è molto bello ma anche faticoso. Sicuramente il fatto che siamo venuti a vedere la nostra realtà è perché non è una cosa che penso facciano spesso, quindi ci ha dato importanza e sicuramente per noi è stato un onore e un piacere. Fare aziende in Sicilia, come le dicevo prima, è difficile. Sentivo nel corso dell'incontro anche parlate del discorso del prezzo del gasolio, del trasferimento su rotaia, il trasferimento su gomma. Sicuramente questo è un esempio di come non veniamo considerati in Sicilia, non viene considerata l'importanza che si deve dare a questo territorio. Bisogna aiutarli alle aziende, i tipi di incentivi devono essere anche questi, aiutarli per la logistica, noi abbiamo comunque delle spese da sostenere, ne faccio un esempio, anche soltanto il costo del traghetto è un costo aggiuntivo che sicuramente non aiuta la competitività.